Di grande presentazioni, veramente ringraziamo per la... Del primo, veramente del primo, no no, ho fatto l'inciso, scusa, passo questo inciso almeno, no, non continuo a sbagliare, ho inciso che è il primo momento che abbiamo iniziato. Quindi ormai lo conoscete tutti, lo ringraziamo per averci accompagnato fino qui e farà una chiacchierata col professor Orosco, bene, benissimo. Che è medico, chiaramente, e si occupa di biochimica, immunologia, riproduttiva, eccetera, ed è specializzato anche in nutrizione, naturopatia, agopuntura, nonché biofisica e biologia. Quindi volentieri vi ascoltiamo e grazie. Dunque il tema di oggi è epigenetica, ma vi devo dire che io ho fatto una bella intervista sull'epigenetica solo qualche giorno fa e nell'intervista dicevo in maniera molto chiara che cos'è l'epigenetica. L'epigenetica è una nuova scienza nata 70 anni fa da un genetista, ovviamente, e non ci vuole grande fantasia per dire che l'epigenetica si occupa di geni. Diciamo che prima dei 70 anni i geni per noi erano legati ai nostri genitori, ai nostri nonni, ai nostri avi. Dal momento in cui è nata questa nuova scienza abbiamo visto che le cose, sì, sono proprio così, ma non del tutto così. Perché? Perché ci sono una parte di geni che possono essere influenzati dall'ambiente esterno. E per l'ambiente esterno cosa intendiamo? Beh, intendiamo sicuramente l'aria, l'acqua, il suolo, l'alimentazione, i successi o gli insuccessi. E allora voi vedete che le cose sono un pochettino più complicate. C'è una parte sostanzialmente di geni che è sostanzialmente variabile in funzione di questi parametri, dei rapporti, dello stress. E allora forse quando il mio amico Carlos mi ha proposto di venire qua e fare un dibattito tra me e lui, io mi ero posto il problema di dire benissimo, allora andiamo subito sull'epigenetica. Ieri l'ho incontrato, l'ho incontrato a Milano per metterci d'accordo nel dire, vabbè, tu cosa dirai, io cosa dovrò dire? Io sicuramente farò una parte e tu ne fai un'altra. Allora, allora io tiro fuori dalla mia tasca questo promemoria scritto da lui e allora ho detto manca un leggio, adesso lo metto qua, vedete il promemoria. E nel promemoria c'è scritto guarda tu dovrai parlare insieme a me di energia, tu dovrai parlare insieme a me di risonanza, tu dovrai parlare con me di dualità e poi di acqua. Ma ragazzi, io sono da cinque anni che sono qui in mezzo a voi, vi ho parlato lungamente di energia, vi ho parlato lungamente della dualità, vi ho detto l'energia è qualcosa che per noi fisici, come fisici è innaturale, l'avete sentito dal collega del CERN che è arrivato, ma per noi medici, ma quale energia? Ma che energia? È un concetto che non ci appartiene, ma fortunatamente da qualche anno a questa parte qualche uno di noi, e forse tra qualche uno di noi c'è chi vi parla, da vent'anni porta avanti il concetto di energia nell'interno del corpo umano. Finalmente, ed è le relazioni che ci sono state stamattina, che sono stato molto attento ad ascoltare, finalmente i concetti biochimici sono una parte della realtà del corpo umano, ma c'è un'altra realtà che si chiama biofisica, che si chiama energia, che si chiama campo elettromagnetico. E allora quando Carlos mi ha detto parliamo di energia, vabbè, è la risonanza, la risonanza, l'avete sentita oggi? L'ultimo, la dottoressa che ci ha preceduto, che si è messa a cantare, e ha espresso dei suoni, delle melodie, e come avete reagito voi? La dottoressa si è messa a piangere, e voi eravate in silenzio, religioso silenzio, perché avete assorbito il canto, le frequenze, la biorisonanza. E allora voi capite che il secondo punto, biorisonanza, acqua, acqua. Ma questa mattina tutti voi avete parlato di acqua, dell'importanza che la vita nasce dall'acqua, ma io vi ho fatto, due anni fa, una lezione in cui ho dimostrato, e forse veramente tra i primi in Italia, di come avvengono le reazioni biochimiche, che noi fisici, noi chimici non sapevamo, e che anche i medici ignoravano totalmente. E che cos'è che vi ho dimostrato, due anni fa, attraverso una lezione che mi permetteva di far capire tutti i passaggi, anche se erano complessi. Mi sono permesso di dimostrarvi che le reazioni biochimiche avvengono solo e soltanto perché nel corpo umano c'è acqua. Perché se non ci fosse acqua, nessuna reazione biochimica potrebbe avvenire. E vi ho dimostrato che avviene la reazione biochimica attraverso il fatto che l'acqua genera un campo elettromagnetico e attraverso la nascita di questo campo elettromagnetico che si incontrano le molecole attraverso un fenomeno che si chiama di biorisonanza. Allora le molecole non si attaccano a caso, ma si attaccano attraverso la risonanza che avviene col campo elettromagnetico dentro l'acqua. E allora voi capite bene che il terzo punto acqua mi ha messo nelle condizioni di dire beh, non è che voglio ripetere le cose che io vi ho detto, perché alcune di voi continuano a seguirmi da lungo tempo, vedono le mie lezioni, i miei studenti in università sanno le cose che dico e che dimostro. E allora è con grande piacere che io lascio il microfono al professor Carlos perché io so già le conclusioni, quindi non posso anticiparlo e casomai farò in modo di dare ulteriori spiegazioni e spero che lui non faccia troppo il matematico per evitare che voi vi addormentiate. Allora, Carlos, a te la parola e io rimango a disposizione. Grazie, grazie. Posso mettere via gli appunti, eh? Ok. Bene, chiedo scusa, mi dispiace tanto di non parlare bene l'italiano, ma in italiano so dirvi buongiorno e sono veramente felice di essere qui con voi a Piacenza. Bene, ci tengo molto a ringraziare tutti voi per essere qui quest'oggi, la ringrazio anche per la bellissima presentazione e grazie a me per la traduzione. Oggi parleremo di energia, risonanza, dualità, acqua ed epigenetica. Questa mattina abbiamo sentito parlare di intenzione. L'intenzione rappresenta il che cosa. Poi c'è lo scopo, cioè per che cosa, a che fine. E poi c'è il significato, il perché. Quando abbiamo queste tre cose, a quel punto si può cominciare con lo spinning. E si arriva alla coerenza. E se iniziamo a fare quello che diciamo e quello che pensiamo, alla fine siamo felici. E tutto questo si chiama armonia. Armonia che crea la vita. Un flusso naturale di energia. Per fare tutto questo dobbiamo scambiare informazioni. Questo scambio avviene attraverso la comunicazione. In modo tale che l'energia può trasformarsi in materia. A quel punto la materia e l'energia diventano intercambiabili. Il vostro pensiero diventa a quel punto la vostra realtà. Tutto quello che pensate è riscontrabile, lo potete ritrovare. attraverso la risonanza quello che voi state cercando trova voi. Non siete voi a trovarlo. È quel qualcosa che trova voi. Questo significa che vi trovate al momento giusto, nel posto giusto, con la persona giusta e in quel momento state parlando della cosa giusta e questo senza alcuno sforzo. Semplicemente avviene perché c'è un flusso di energia con la coerenza. Quindi l'energia si manifesta attraverso questa spinning, questa rotazione eccola qui. Altro che una spirale che crea una piramide che è esattamente questo. E adesso a questo punto un atomo che non è altro che un mattoncino inizia a cambiare e si trasforma in molecole. diventa uno strato di mattoncini e poi le molecole diventano monomeri i monomeri polimeri e diventano stanze e quindi case. Le case diventano strade le strade formano dei sobborghi che a loro volta formano città e questo fanno le vostre cellule non sono altro che questo. Triliardi di cellule le città formano stati come le cellule a loro volta formano tessuti da stati si arriva a paesi dai paesi ai continenti dai continenti al mondo e tutto questo avviene proprio per questo ovvero l'energia un'energia che va in spinning e qui abbiamo le strutture e le funzioni tutto è coerente questo significa che possiamo trasferire l'energia da un livello a un altro costruendo un meraviglioso ecosistema e questo meraviglioso ecosistema lo chiamiamo il pianeta Terra e noi siamo un'unica cosa con questo pianeta e il pianeta è un'unica cosa con noi e io sono una sola cosa con te e te tu tutti voi siete un'unica cosa con me noi siamo conosciuti come umani la cellula è l'unità fondamentale della vita così come il pianeta è la nostra casa e tutti insieme formiamo un biocampo umano un campo vivente in cui l'energia interagisce e dove avviene lo scambio di quel qualcosa che chiamiamo amore perché amore significa senza morte senza di morte ah ok è amore la parola amore è A negativo privativo più morte quindi amore è senza morte quindi benvenuti alla vita eterna che altro non è che l'amore quando blocchiamo questa coerenza il sistema viene disturbato e questo porta il corpo ad ammalarsi perché esce dall'armonia esce dall'amore l'assenza di amore è l'odio e l'assenza di luce è il buio e l'assenza di malattia è la salute e benvenuti nel mondo delle dualità il biocampo è un'emissione di luce noi siamo costituiti da piccolissime particelle chiamati cromosomi la parola cromo significa luce e som significa corpo questo significa che noi siamo corpi di luce Alexander Fritz Popp descritto Alexander Fritz Popp aveva testato tutto questo e anche Carlo Rubbia così come Carlo Rubbia che lo conoscete benissimo sappiamo oggi che siamo emissioni e loro sapevano che aveva a che fare con qualcosa chiamato amore che viene dal cuore questa è la natura Mendeleev e Dalton hanno messo insieme tutte queste informazioni secondo in base a un numero Allora l'idrogeno è collegato al numero uno idro significa acqua e gen idrogeno viene da genesis ovvero inizio quindi idrogeno non è altro che l'inizio dell'acqua l'origine dell'acqua anche in questo caso c'è una dualità perché all'interno della stessa molecola avete due cariche una carica positiva e un'altra carica negativa e questo è il motivo per cui l'acqua può condurre l'energia elettricità scusate e l'elettricità non è altro che energia una energia che è trasformata in luce l'idrogeno l'idrogeno non è altro che un punto e all'interno nell'universo abbiamo quintilioni di punti un unico punto questo significa armonia l'essere unico io io e te e voi siamo innamorati l'uno dell'altro c'è armonia perché siamo unificati e poi abbiamo la dualità l'elio è rappresentato è il numero due è il due questo significa il sole e ancora una volta è luce e ancora una volta energia e abbiamo la dualità e abbiamo la parola la end cioè e questo e quello la dualità la destra e la sinistra sopra e sotto lo yin e lo yang e molte molte altre coppie quindi abbiamo su e giù e abbiamo la dualità abbiamo la sinistra e la destra e abbiamo linee e abbiamo cerchi questo è l'uomo e questa è la donna le donne sono così gli uomini sono dritti senza curva e qui vedete nel pantheon abbiamo le linee questo è Fibonacci e vedete il rapporto fra l'essere femminile e maschile tre è il triangolo e qui avete e qui avete voi io e noi e ancora noi è rappresentato dall'amore quattro è il quadrangolo una due tre quattro but also four 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 it's a quadrangolo that is called resonance allora un quadrangolo qua ce ne sono quattro anche qui quattro questa è la risonanza l'ina l'ina è composto da quattro lettere a t g c a t g c comunicazione comunicazione il cinque è la gratitudine 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 significa dire grazie con le mani giunte cinque dita grazie e questo ha tante implicazioni proprio perché inizia lo spinning questa è l'integrazione della materia e dell'energia che provoca uno spinning e quando questo avviene si crea una vibrazione e noi vibriamo con la stessa frequenza di questo elemento che è il soggetto lo spinning e lo abbiamo sentito attraverso la voce di questa bellissima dottoressa che era prima qui sul palco l'abbiamo sentito nella sua voce e abbiamo tutti reagito con le lacrime e questo fa sentire i bambini, i neonati a casa questo avviene attraverso la vibrazione e la risonanza e poi abbiamo l'isomerismo e l'esagono che significa unità, lo stesso triangolo, uno verso l'alto, uno verso il basso questa è la vita l'esagono che ci spinge da questa parte e quando si raggiunge questo tutto inizia da solo a ruotare e l'energia ruota e a questo punto si arriva al sette il sette è un cerchio il significato è il ciclo sono sette i giorni della settimana 52 settimane nel corso dell'anno sono sette le note musicali sono sette i colori dell'arcobaleno quindi un sette fisiologico i sette continenti i sette oceani io sono nato il mese di luglio che è il settimo mese e qua arriviamo all'ottagono l'otto che rappresenta l'infinito e qui abbiamo la bellissima molecola d'acqua che forma un esagono l'acqua esagonale quando è in quella forma la sua rappresentazione fotografica è quella più a destra invece questo è attraverso l'energia l'energia che come vedremo possiamo far passare attraverso un piccolo dispositivo che altro non è che è una spirale e questo ci porta al numero nove il nove è composto da otto e uno da sette e due da sei e tre da quattro e cinque se seguite bene questo è lo zero il punto poi c'è l'uno due due quattro quattro otto dieci sei uno e sei fa sette e sedici e sedici fanno trentadue trenta e due fa cinque trenta e due trenta e due sessanta e quattro sei sei quattro dieci uno e zero uno allora aspetta trentadue più trentadue fa sessantaquattro sessantaquattro sei e quattro fa dieci cioè uno e uno e l'uno è l'unità armonia noi siamo armonia che continua a girare e questo non finisce più potremmo continuare all'infinito e la dualità ci dice che se continuassimo a raddoppiare cioè se possiamo raddoppiare dobbiamo anche però dimezzare e qui in effetti dimezziamo da zero a zero cinque da uno a zero cinque da zero cinque a zero venticinque e poi e così via zero cento venticinque e zero uno due cinque non è altro che otto e poi zero a seiscentoventicinque e poi prosegue lungo le linee questo significa che in questo modo stiamo girando dal lato opposto e qui lo spin lo zero diventa dieci oppure lo zero può diventare zero uno cioè due cose diverse a seconda del lato in cui giriamo anche la dualità sceglie può aumentare o diminuire dar su o andar giù yang o yin sinistra o destra accelerare o rallentare uomo o donna dualità quindi quando dovete scegliere sceglietele tutte e due non sceglietene solo una se io mostro qualcosa a qualcuno e dico scegli prendine uno prendi in genere la gente sceglie solo una cosa no voi dovete sceglierle tutte e due oppure potete decidere di non sceglierne nessuna che sarebbe una buona scelta ma non sceglietene mai solo una questa è l'energia che ruota e questo è un campo quantistico che è costituito da quattro uno due tre quattro un due tre quattro un altro campo e un altro ancora e questo è un altro ancora allora l'azoto scusate ne ha sette sette per quattro fa ventotto e due più otto fa dieci e uno e zero sono l'uno ancora una volta armonia e la troviamo qua questa è esattamente la stessa cosa quattro azoto atomidi azoto e ferro e questo altro non è che l'emoglobina e questa è la clorofilla cioè energia e qui abbiamo l'azione risonanza abbiamo anche la reazione allora quella è la direzione sud ovest e quest'altra la direzione nord est e quella freccia rossa all'ingiù permette la formazione del vortice e vedete che hanno lo stesso colore la linea del vortice e quest'altro non è che la legge d'attrazione cioè una cosa attrae il suo simile ma Coulomb invece disse le cariche opposte sono le cariche opposte ad attrarsi le cariche simili invece si allontanano no non è vero non è così perché il rosso attira il rosso questo altro non è che il genotipo e questo è il fenotipo cioè quello che noi vediamo e la linea blu blu laggiù violetta attira la spirale blu ma con il fenotipo noi vediamo che sono gli opposti ad attrarsi ma non è vero perché il rosso attrae il rosso e il blu attrae il blu perché perché il rosso attira il rosso e il blu attira il blu e quando possiamo vedere qui il verde la freccia verde attira il verde e il giallo attira il giallo questo significa che abbiamo la luce del sole e la clorofilla delle piante e se dovessimo andare a guardare la loro interazione in un campo quantistico vedremo che interagiscono in questo modo e formano e formano questo cubo al centro vedete che il cubo è proprio nel centro nel cuore questo è il metrotron cube e lo si può far girare questo altro non è che energia e vedete su e giù e qui è l'emoglobina il sangue arterioso e il sangue venoso questa è la clorofilla con la luce del sole e questo è il modo attraverso cui il vortice e la linea interagiscono e formiamo questa spirale perché e tutto questo comincia a ruotare uno va verso l'interno l'altro verso l'esterno ancora una volta dualità uno va verso fuori uno va verso dentro e voi attirate le cose qui al suo interno e questo è lo stesso modellino che abbiamo qui in realtà e qua lo vedete c'è scritto ti amo in diverse lingue risonanza vibrazione e frequenza tutto abbiamo parlato di queste tre cose e la risposta è amore amore per tutti gli esseri umani come potete vedere questo è energia è luce è vita e la terra utilizza tutto questo perché siamo immersi in una matrice chiamato spazio-tempo lo ha fatto Einstein la meccanica quantistica dice che tutto questo non è vero perché ci dice non c'è spazio non c'è tempo ma c'è solo un punto solo uno qui e ora non c'è altro le onde gravitazionali permettono a questo di muoversi attraverso lo spazio ma oggi abbiamo la tecnologia la tecnologia che ci consente di portare l'epigenetica cioè i segnali che vengono dall'ambiente e che hanno un effetto sulla vostra fisiologia cioè prendere e noi oggi grazie alla tecnologia siamo in grado di dirvi che cosa sono l'unica cosa di cui abbiamo bisogno sono vibrazioni frequenza e un'altra cosa chiamata amore e possiamo dirvi in che modo l'ambiente circostante vi sta che effetto sta avendo su di voi e possiamo raccontarvi del vostro stato di benessere e di salute quindi prendendo un capello e mettendolo all'interno di quella macchina solo 15 minuti dopo ricevete un resoconto un rapporto che vi spiega quali frequenze stanno avendo un effetto sul vostro corpo quali sono gli aminoacidi di cui avete bisogno quali sono le vitamine di cui avete bisogno e quale cibo o quali alimenti dovreste eliminare e tutto questo per 90 giorni e questa operazione va fatta quattro volte all'anno perché è importantissimo sapere in che direzione sta andando il vostro corpo in modo tale che semplicemente studiando e valutando un capello si possano prendere le decisioni corrette quindi questa macchina chiamata l'S Drive non fa altro che decodificare le informazioni contenute nel bulbo pilifero che non è altro che un biomarker e genera una serie di onde segnali questa è la firma la S sta proprio per Signature cioè firma bene se seguite questo tipo di direzioni arriverete in una destinazione piuttosto interessante arriverete a uno stato di benessere e di salute ottimale questo vi farà sembrare più giovani e vi farà vivere più a lungo e adesso per concludere questa è una goccia d'acqua vista al microscopio un microscopio a campo scuro ecco noi usiamo esattamente la stessa tecnologia per permettere a quello diventare quest'altro questa non è altro che una goccia d'acqua all'interno della quale è stata posta un'intenzione e l'intenzione era dai amore e ricevi amore e quindi è venuto fuori un cuore all'interno di una goccia d'acqua grazie molti grazie grazie professor Spaggiari dottore Orosco tanto per rimanere in tema non era previsto non è che ci siamo messi d'accordo assolutamente grazie anche Raffaella per la traduzione che dire no c'è soltanto da dire provare a questo punto provare nel senso che qualcuno di voi può fare un test e andate a vedere il test è completamente gratuito mi sembra no è al di fuori della sala grazie e poi ci sentiamo per la tavola rotonda grazie professor Spaggiari grazie dottore Orosco prego ok appenzione grazie 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 grazie